Ciao a tutti, ben ritrovati, prepartita di Sassuolo Inter, mi raccomando lasciate like al video e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi. Dopo il video di ieri di Calcio Mercato, ovviamente, lo sapevo, è sempre così, succede sempre così, ho ricevuto una serie di messaggi in privato da alcuni di voi che mi propone un nome, chi mi propone un altro, ma cosa ne pensi di questo? Ma ti piace quest'altro nome? Cosa ne pensi? Eccetera, eccetera. Dico solo una cosa, ci sono vari nomi, vabbè, ho risposto un po' quasi a tutti, però ci sono due nomi abbastanza ricorrenti di cui mi chiedete e io ogni volta devo rispondere allo stesso modo e non ce la faccio più, quindi dico a video così che nessun altro ne chieda di più di questi due giocatori. Il primo è Frimpong come esterno o destra. Ragazzi, Frimpong costa tantissimo, costa 40-50 milioni, ha offerte dalla Premier, sicuramente ha, insomma, un futuro in squadre importanti. Io non penso che faccia il caso dell'Inter che se vende, vende forse Doomfries ha 20 milioni e poco altro, cioè, insomma, è fuori target, ma soprattutto, e qua mi imbufalisco perché vuol dire che non mi ascoltate, ieri, ma non ieri, l'ho detto 20 volte, l'ultimo anno, anzi, già l'anno scorso in realtà, se perdiamo Doomfries o se vendiamo Doomfries, dovremo andare a prendere uno con caratteristiche simili a Doomfries perché perdiamo delle caratteristiche di un certo tipo. Cosa c'entra Frimpong con Doomfries? Non c'entra moltissimo, è un giocatore completamente diverso, piccolino, dribbling, poca fisicità, cioè, quindi, cosa c'entra? E' come dire, no, ci vuole l'Inter, ci vuole un giocatore al Geico che è uno forte fisicamente, che colpisca di testa, che tenga sulla squadra e qualcuno mi propone, non so, di bala, cioè, capire? No! Ecco, quindi, saniamo il primo nome. Il secondo nome è Zirkze, invece, giocatore che conosciamo su questo canale da due, tre anni almeno, ancora prima del Bologna, sicuramente mi piace molto, sicuramente è un giocatore valido che farebbe anche, è il caso dell'Inter, sia in presente ma anche in futuro, è un giocatore giovane, ma, per prendere Zirkze, stesso discorso per Frimpong, dove li prendi 40-50 milioni di euro? Devi cedere a Turam? Allora, cediamo a Turam per prendere Zirkze? Zirkze? Non so, ecco, no, e il punto è che Zirkze, secondo me, non è un giocatore in orbita inter attualmente, piace, perché piace, ma... Niente non si fa, cioè, voglio dire, no, non si può andare avanti su questo nome, secondo me, sono i margini attualmente, mi sembra. Io penso che vada al Milan, se volete la mia opinione, così è, è deduzione logica, non è che so. Deduzione logica, secondo me, potrebbe andare al Milan, perché il Milan cerca assolutamente una prima punta, ha budget, può spendere, può fare quella cifra, secondo me, secondo me, Zirkze andrebbe anche al Milan volentieri, sarebbe titolare comunque di una squadra importante, che sta comunque crescendo, e concludo col dire sul Milan che, continuo a ripeterlo, da due anni ci supereranno, il Milan ci supererà, tempo al tempo ci supererà, perché sul mercato sta operando molto bene negli ultimi due anni, con la nuova dirigenza, con la nuova proprietà, con la nuova idea, no? Nuova mentalità. Fanno dei colpi veramente validi e a medio termine, è chiaro che il breve termine magari sono ancora un po' inferiori, no? In queste due ultime stagioni si vede, l'Inter è comunque superiore, ma la logica al medio termine poi ti porta a scalare, a progredire molto bene negli anni, in tanti, non in 15 anni, in 2, 3, e secondo me già l'anno prossimo potrebbero essere molto competitivi, perché devono solo cambiare pioli, e quello vabbè, ok, perché è un po' mediocre, diciamo così, buono, ma niente di che, e gli basta fare un altro mercato come quello dell'anno scorso, sinceramente, con un potenziamento di 2-3 ruoli, tra cui anche la puntura punta, e lo possono fare per questione di bilancio, il Milan lo può fare perché ha margine, e siamo lì, e siamo lì, perché loro si potenziano, noi non credo che ci si potenzi, il massimo che può fare l'Inter è più o meno rimanere allo stesso livello, ok? Sì, qualche innesto, ma qualche giocatore pensa a Cervi, pensa a Darmià, qualcuno avrà un anno in più, quindi magari ti bilanci e stai lì, mentre il Milan si potenzierà. Questa è la mia previsione, ma proprio a logica, a logica, guardando i numeri, guardando il bilancio, guardando quello che fanno, guardando la mentalità, come operano. Ragazzi, l'anno scorso hanno preso Reinders, Loftucic e Pulisic, tutti e tre, intorno ai 15-18 milioni, cada uno, e sono tre colpi che valgono almeno il doppio, almeno se non addirittura qualcosa in più, anche come potenziale con questi giocatori qua, magari con un altro tecnico. Però vanno, bisogna dirlo, cioè su questo sono forti, poi altre cose li critichiamo, giustamente, ma su questo sono forti. Ed è per questo che io ieri dicevo nel video di mercato, e poi vengo al prepartita, dicevo la dirigenza dell'Inter deve avere coraggio, deve avere visione, non possiamo adagiarci, siccome abbiamo vinto, e tenere tutto quello che abbiamo pari pari, senza fare nulla, per paura di sbagliare, di fare qualche movimento, perché se tu hai paura di sbagliare e rimani lì, tu stai fermo, gli altri crescono, e alla fine il vantaggio che tu avevi, perché ce l'abbiamo vantaggio sul campo, di forza, di qualità, di rose, eccetera, il vantaggio che tu hai o che avevi, si assottiglia fino a sparire o addirittura diventare svantaggio in un futuro, potenzialmente. Quindi attenzione, bisogna avere visione, bisogna avere coraggio di fare piccole scelte, mica di stravolgere, se una cosa funziona non è che va stravolta, però magari si possono fare dei piccoli miglioramenti. Cito la fascia destra, che va migliorata, soprattutto se non vediamo Buchanan, se non, ecco, va migliorata, la fascia destra va migliorata. Dunfri se è in partenza o comunque così, e Darmian non può essere un giocatore, non può essere un giocatore Darmian su cui ti basi per l'anno prossimo. Può essere un jolly, un giocatore che c'è, comunque, disciplinato, professionista, che c'è sempre pronto all'uso, ma è un jolly, non puoi basarti su Darmian. Ci vuole valore aggiunto sulla fascia. E la stessa cosa vale per l'attacco per quanto riguarda almeno le riserve. Taremi, ok, ma ok se viene a posto di Arnautovic. Serve un altro giocatore importante, una seconda punta con qualità e con numeri. questo è, almeno questo. Ora andiamo alla pre-partita. Sassuolo, 4-2-3-1. Giocherà ovviamente alla disperata, cercando di ottenere più punti possibili, perché i ragazzi sono alle ultime battute e sono in zona rischiosa per la serie B, e quindi chiaro che giocheranno, è difficile sapere a che approccio avranno, se proveranno a strappare un punto facendo una difesa super mega intensa o se proveranno a dare il tutto per tutto e in qualche modo provare a fare il risultato grosso visto che sono in casa. È difficile, perché quando sei alla fine mancano due o tre partite, sei contro una big e le altre partite sono anche complicate, come quello del Sassuolo, potrebbe anche essere che i giochi possano giocare in maniera super aggressiva, così, facendo tutto per tutto, ecco. E l'unica cosa che voglio dire è questa, che ha due giocatori chiave, a mio avviso il Sassuolo, più due comprimari validi. I due giocatori chiavi, a mio avviso, sono Bolocca e l'Oriente. Bolocca dà qualità, diciamo, e palleggio al centrocampo, anche tiro da fuori, però dà un po' di geometrie, un po' di... cerca di gestire un po' il pallone. Mentre l'Oriente è il giocatore davanti, l'esterno a sinistra, soprattutto, gioca soprattutto là, che dà estro, che dà dribbling, che dà velocità, anche accelerazione, dà affolate, anche lui finalizzazione, però è un giocatore che scompagina, che, non so come dire, scompiglia le carte, no? Ed è un giocatore anche difficile da tenere, perché quando è in giornata buona, con dribbling, gambe, tutto quanto, insomma, bisogna cercare di non dargli troppo spazio, altrimenti ti mette comunque in difficoltà, ecco. Attenzione anche a Doig e a Tosfeld, che sono due giocatori, invece, molto molto fisici, molto bravi con le capacità aeree, quindi anche, non solo durante le azioni, ma anche nei calci inattivi, nelle punizioni, quindi su palloni alti, cross e quant'altro, sono due giocatori molto molto validi, e quindi attenzione anche a questi due. Doig gioca a sinistra, terzino sinistro, dietro a l'orienté, mentre Tosfeld dovrebbe giocare trequartista, ma potrebbe giocare anche a centrocampo, è un po' polivalente, perché comunque è un giocatore fisico, anche che sa anche difendere, che sa anche comunque fare sacrificio, ma si può anche giocare trequartista, inserendosi, portando centimetri in area, per ricevere i cross. Dipende, può essere utilizzato in entrambi i modi. Ecco, il loro gioco si basa abbastanza sui cross, sinceramente, a parte appunto un po' di qualità sui tiri da fuori, l'orienté, i rami, così, però tendenzialmente, utilizzano molto i cross, soprattutto dalla sinistra, ma anche con Toljan a destra, e sfruttano proprio il riempimento dell'area, da parte di Pinamonti, che è discreto di testa, e anche da parte di Torsveld, che anche lui porta centimetri, ed è molto bravo nei duelli aerei. Quindi attenzione a seguire questi giocatori, a marcare questi giocatori, e a seguire i loro inserimenti in area. Quindi devono essere bravi i nostri centrali, a non perdersi questi due giocatori, che sono i giocatori un po' chiave, per finire l'azione del sassuolo. L'Inter 3-5-2 classico, c'è un po' di modifica alla formazione, ho letto di Dumfries, che potrebbe iniziare a titolare, anzi che probabilmente inizierà a titolare. Ecco, un po' peccato, cioè che proprio domani, lo vediamo, che si va ad annullare con Doig, perché di fatto fisicamente, centimetri gamba e tutto quanto, si va veramente ad annullare. Quindi è un peccato, perché lo mettiamo domani, Dumfries, che si va appunto a fare pari, mentre tante altre volte, dove c'è la possibilità di avere dei mismatch positivi, quindi di vincere il duello in fascia, anche fisicamente, con i centimetri, con la presenza in area, con la velocità, eccetera eccetera, c'è la possibilità di poterlo fare, là invece non l'abbiamo fatto. Questo è un po', secondo me, frutto della visione molto prudente di Inzaghi, se pensiamo, molto spesso Inzaghi usa i duelli mismatch, più che per vincerni contro gli avversari, per annullare i vantaggi avversari. Pensiamo a Gagliardini su Savic, no? Di vecchia memoria. Lì potrebbe avere anche un senso, perché Savic è talmente più forte, rispetto magari ad altri giocatori, a centrocampo, che diceva, vabbè, lì provo a limitarlo, ma tante volte magari siamo noi ad avere un giocatore che magari può essere più forte, più veloce, più abile, più pericoloso. Dunfries, ma vale anche per Turam in attacco, in alcune situazioni, e non sfruttiamo appieno queste caratteristiche per mettere in difficoltà gli avversari. E questo è un po' un peccato. Ecco, per esempio, Dunfries e Buchena, la settimana scorsa, giusto per fare l'ultimo esempio, è un arco temporale, a livello cronologico, contro Riccardo Rodriguez, del Torino, potevano metterlo in difficoltà, perché è un giocatore abbastanza lento, non super veloce, neanche fortissimo di test, eccetera, ecco, sia Dunfries che Buchena potevano metterlo in difficoltà per cose diverse, invece, chi abbiamo scelto noi, Darmian. E' un po' questo, insomma, la visione dei Linzaghi di quest'anno, spero che possa cambiare l'anno prossimo, perché secondo me c'è margine per migliorare ancora, non c'è super margine enorme, perché l'Inter gioca già benissimo e tutto quanto, però in alcune cosette c'è ancora del margine da grattare per migliorare, per avere qualcosa in più. Questa è una delle situazioni. Ecco, invece a sinistra giocherà Carlos Augusto, Carlos Augusto per infortunio di Di Marco, è buono che ci sia Carlos Augusto domani, perché Toljan è uno che comunque ha gamba, quindi serve qualcuno che abbia resistenza, che sappia anche tornare, coprire, eccetera, e soprattutto Toljan però è scarso, molto scarso nella copertura del secondo palo, soprattutto di testa, e quindi a Carlos Augusto invece che è molto forte in questa questa caratteristica, diciamo, può essere veramente un'arma interessante, soprattutto sfruttando magari i cross di, oddio, Dumfries, Fartesi, Pavar, ecco, i cross di Pavar potrebbero essere buoni per Carlos Augusto domani. Altra cosa importante, vedete Fartesi, ovviamente, adesso ci arriviamo, attenzione ad Aslani, che probabilmente giocherà in mezzo, perché se dovesse giocare Matteus Enrique, vabbè, ma se dovesse giocare Torsveld, trequartista, e dovesse marcare a uomo il nostro mediano, potrebbe andare in difficoltà a Aslani, quindi Aslani dovrà, avrà una bella prova, domani deve muoversi molto, smarcarsi, arretrare, deve giocare un po' tra le linee e essere abbastanza dinamico. Mkhitaryan chiaramente dovrà dargli una mano, sono sicuro che lo farà, arretrando, facendosi vedere tutto, anche perché Fratesi sappiamo che invece tende un po' a svuotare il centrocampo, ed è per quello che davanti a Fratesi ho messo Sanchez, perché Sanchez può invece liberare lo spazio davanti per Fratesi, per le imbucate di Fratesi, e Sanchez può dare una mano al centrocampo a legare il gioco, a costruire, a sviluppare le azioni, quindi Sanchez che viene incontro, Arnautovic che tiene magari la posizione davanti, e Fratesi che si butta nello spazio creato da Sanchez, questo potrebbe essere una cosa interessante, facendo turnover ovviamente, però può essere una cosa ragionata, logica, che ha un suo senso. Per finire, no, nulla, vabbè, vedete che ho messo Arnautovic e Sanchez, entrambi due riserve, secondo me non sarà questa la coppia titolare, vedremo, io penso, Lautaro Martinez, credo anche per questione di classifica cannonieri, cioè, si sta cercando palesemente di farlo in qualche modo segnare, o comunque lo metteremo in campo, secondo me, per provare a farlo progredire come gol, ecco, diciamo così, quindi secondo me vedremo uno dei due, uno tra Sanchez e Arnautovic, dovessimo mettere Sanchez con Lautaro, è chiaro che, ecco, i cross in mezzo non sono magari l'arma vincente della casa domani, dovremmo giocare più palla a terra, cercando di sfruttare gli inserimenti, questo sì di frattesi, giocare un po' più verticali, diciamo, con Sanchez dietro Lautaro e con tanto movimento, con tanti inserimenti, magari anche sfruttando le fasce, Carlos Agusto, Doom, Freeze, eccetera, magari poi con il cross basso, diciamo, a, non a rientrare, a, per, perché, mi manca la parola, vabbè, il cross dietro, l'appoggio dietro per chi viene a rimorchio, ecco, questo è, volevo dire, bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo, ci vediamo domani per quanto riguarda il post partita, ah, cosa finalissima, qualcuno mi chiede, ma come mai non Bissek, Bissek va fatto a giocare, avrebbe dovuto giocare molto di più quest'anno, almeno quando Pavard era fuori e via, però domani, visto che c'è Frattesi, che sappiamo che si vuota il centrocampo e da quella parte magari non difende benissimo, e c'è l'Oriente sulla sinistra che invece è un complicato da gestire, forse Pavard potrebbe essere la scelta più oculata, ecco, per dare un minimo di equilibrio, quindi fatalità domani la leggo così. Vabbè, ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani per il post partita, forza Inter come sempre, mi raccomando, mi raccomando, sosteniamo l'Inter anche queste partite finali, perché comunque è bello, è bello finire con delle vittorie, e io ho quella speranzetta, adesso magari, adesso se lo dico, leggerissima scaramanzia, se lo dico, non succede, però insomma, non sarebbe male finire a 102 punti, anche per mettere un po' il pepe, così no, ai conte, che diceva, ah ecco adesso, non potete superarlo, ma possiamo comunque uguagliarlo, così non sarebbe male, ovviamente non succederà mai, perché adesso, se il ciassoolo domani ti darà l'anima e tutto, sicuramente andrà male, vabbè, ragazzi, a presto, a forza Inter, mi raccomando, ci vediamo domani.